Per Oda sicuramente i numeri sono dalla nostra parte, siamo contenti perché quanto preventivato sia come fatturato che come passeggeri è stato raggiunto e anche superato in modo soddisfacente. Siamo già concentrati sul 2025, partiamo proprio da questi numeri perché hanno portato un incremento tra il 4% e il 7% su una previsione basata intorno al 3%. Soprattutto per i fornitori, quindi per gli albergatori sono contenti del rapporto con Otaviaggi e con lo sviluppo che abbiamo in previsione per i prossimi tre anni. Allora qui mi dovrei svestire un attimo dalla figura di direttore commerciale e parlare in quanto massimo facente parte del sistema turismo in Italia, soprattutto nel sistema fatto tra albergatore, tour operator, agenzie di viaggio e cliente. Non può essere più la leva del prezzo, la scelta della vacanza, altrimenti questa filiera va sicuramente a crollare e c'è il cliente che va direttamente all'albergatore, che non conviene a nessuno, sembrerebbe un punto di vantaggio, ma fondamentalmente, signori, ne va anche della garanzia del cliente, ne va della sua vacanza, ne va soprattutto nella sicurezza e nella tranquillità del cliente che piace. Io penso che oggi dobbiamo pensare tutti quanti a far capire il valore aggiunto che ognuno di noi può mettere a disposizione e deve far conoscere al cliente finale quella che è la garanzia di una vendita fatta a norma di legge, quella che è sicuramente una garanzia dall'inizio alla fine della propria vacanza, quella che è la sicurezza del cliente che qualsiasi problema possa avvenire durante la vacanza, ci sia una realtà che sia il tour operator, sia l'agenzia di viaggio, garante per la loro vacanza e il loro problem solving. Chi deve risolvere in quel momento il problema? Sicuramente questo è basato su una professionalità che deve essere messa a conoscenza del cliente, quindi far capire all'utente finale che il prezzo non è l'unico fattore, ma bensì oggi deve essere una sicurezza di vacanza, una vacanza garantita dalle vale finiere e soprattutto dalla professionalità di chi opera nelle nostre aziende.